Ho sentito il telegiornale? La ricostruzione si è a tempo di record, questi alluvionati delle cazzo. Potrebbero essere dei black bloccano un cartellone scritto no città di mare 2. Diciamo che qui al sud è tutto costruito così, però regge, Pensa che l'ho stato a meno 600 milioni di euro per l'emergenza, ma che cazzo c'hanno questi? No è successo quello che non potevo immaginarmi, ecco questa è veramente sopra l'Italia peggiore.